Il 18 e il 19 a Sant'Angelo in Lizzo ci sarà una giornata dedicata a Costanza Monti, celebre consorta di Giulio Perticari. Come ricordavi nella domanda, insomma nel 2022 ricorre il bicentenario della morte dell'illustre personaggio di Sant'Angelo in Lizzo da Pesero. Una giornata di convegno che si terrà alla chiesa di Sant'Egidio, al teatro Branca, recentemente ristrutturato, e sarà il pomeriggio del sabato e la domenica mattina. L'intento è quello di valorizzare e raccontare la storia di Costanza, una storia femminile travagliata ma comunque molto molto importante. L'idea è nata dall'esigenza di riscoprire le radici storiche, culturali della città di Vallefoglia, tant'è che aspettando Giulio Perticari, 200 anni dalla morte, che è il prossimo 2022, il prossimo anno, quindi faremo le celebrazioni, Costanza Monti, Perticari è una donna straordinaria, parafrasando con l'epoca di oggi, ha una storia molto importante da ogni punto di vista, ci sembrava giusto riportarla al centro dell'attenzione di questo territorio, del nostro paese anche. Sono due giorni, sabato pomeriggio e domenica mattina, tutta la mattinata, importanti e impegnativi, quindi aspettiamo tutti a Sant'Angelo e l'Issola in questi due luoghi importanti che sono la Chiesa Sant'Egidio, il parco della famiglia Perticari e il teatro Branca, che è un teatrino rimesso a nuovo. Evento che parte il 18 e si conclude il 19, si svolgerà Sant'Angelo e l'Issola, come è formato il programma? Si alterneranno su due palcoscenici meravigliosi che sono appunto la Chiesa di Sant'Egidio e il rinnovato Teatro Branca, tanti studiosi critici che ascolteranno e proveranno a condividere con noi gli studi fatti su questo personaggio straordinario che è Costanza Monti, sposa di Giulio Perticari, bella, intelligente, intellettuale, coltissima, però dalla vita donna, dalla vita difficilissima, perché forse proprio per questo fu molto invidiata e fu veramente privata di ogni suo avere, sia economico ma anche intellettuale. Chi vorrà partecipare come potrà fare? Dovrà arrivare presto perché i posti sono limitati, non c'è possibilità di fare prenotazione e quindi finché, ecco, con la restrizione Covid, finché ci saranno posti, sarà possibile ospitare tutti.